sarò sincero mi sembrava di ricordare che ormai la saga fosse finita invece no paradiso della divina commedia edition di tedua sta per uscire ma prima sigla e via con la notizia sono riccardo divigiano e ti do il benvenuto a tg kiwi il posto portata ricuffia dove rimanere sempre aggiornato su ciò che di nuovo imperdibile i mondi della musica e del cinema hanno da offrirci ehi la amici di kiwi ebbene sì l'uscita imminente di paradiso la divina commedia edition è un grande evento per i fan di tedua che hanno già mostrato un forte sostegno nei primi due capitoli della divina commedia inferno e purgatorio le certificazioni ottenute dalle tracce dell'album confermano il suo successo e la grande attesa che aveva questo progetto i singoli più certificati sono ho fit sfere basta quadruplo disco di platino paradiso artificiale fit baby gang e kid yugi malamente è red light con doppio disco di platino inoltre essere il primo artista italiano headliner di quest'anno degli eight days a milano è un traguardo significativo per tedua e testimonia la sua influenza nella scena musicale italiana le esibizioni all'ippodromo snai di milano come opening gli artisti del calibro di 21 savage e offset promettono di essere eventi memorabili per i fan e per l'intero panorama della musica italiana l'azienda e per l'intero panorama di king e la grazie a tutti e per l'intero panorama che la sua cultura ha iniziato con il definito